Quante volte abbiamo sentito dire che ormai è stato inventato tutto e che non c'è più niente da fare. Già Bach nel Settecento pensava che il pianoforte non avrebbe mai preso piede perché nulla avrebbe potuto intaccare la perfezione cristallina del clavicembalo. Ma si sbagliò tremendamente. E stiamo parlando di Johann Sebastian Bach, quindi se ha sbagliato lui. E in effetti, visti i cambiamenti che ci sono stati in poco meno di 300 anni, possiamo rendercene conto. Non stiamo sbagliando anche noi nel pensare che non ci sia niente altro da fare che non sia riprendere il passato? È vero che molte cose in ambito artistico, indubbiamente, sono state inventate. Ma quello che fa veramente la differenza è l'intuizione. L'epifani su un particolare che ti fa rivalutare una macro struttura musicale fino a quel momento indiscutibile. Penso a Schoenberg con la tonalità all'inizio del ventesimo secolo. Penso alla genialità dei Beatles che hanno dato una svolta alla musica pop rendendola globale. Oppure alla genuina naturalezza con cui i contadini bulgari cantano in tempi dispari.